Una cicloavventura affascinante per ricordare Pietro Mennea a 70 anni dalla nascita, da Barletta, città natale del grande campione, leggenda dell'atletica leggera italiana, passando per Castel del Monte, Canosa di Puglia, Cerignola, Castelluccio dei Sauri, Bovino, Ariano Irpino in cui l'arena porta il suo nome, per poi proseguire verso altre località, campane e laziali, prima di arrivare alla tappa finale di Roma. Faremo un percorso per le tre città di Pietro Mennea, Barletta dove nacque, Forme dove si allenò e Roma dove dopo la fine della sua bellissima carriera sportiva continuò a lavorare come europarlamentare, come avvocato e come commercialista. La strada passa per Ariano Irpino e non potevamo non fermarci all'arena Pietro Mennea dedicata al grande campione, per cui grazie anche all'amministrazione comunale e allo sporting ariano abbiamo avuto il privilegio di entrare pedalando in questo bellissimo impianto. Porto i saluti di tutta l'amministrazione che per svariati impegni purtroppo non potevano raggiungerci tutti, è un onore per noi ricevere una visita di una prima manifestazione sportiva del genere, ringrazio appunto per questo omaggio a Pietro Mennea e per cui per noi ha una valenza particolare. Abbiamo partecipato con entusiasmo a questa iniziativa che credo sia molto interessante e niente, purtroppo a causa Covid non abbiamo potuto organizzare al meglio, volevamo invitare le scuole, i ragazzini però purtroppo ci dobbiamo mantenere a tenere alle norme Covid.